Ehi, hai dei piani per dopo che siamo scesi dal treno? Non ancora, ma sono entusiasta di esplorare questo nuovo posto. Ci sono così tanti posti fantastici dove andare qui. Hai sentito parlare del museo locale? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? È un museo di storia che mette in mostra la cultura e le tradizioni locali. È un ottimo posto per conoscere la zona. Sembra affascinante. Mi piacerebbe dare un'occhiata. C'è anche un bellissimo parco nelle vicinanze perfetto per un picnic o una passeggiata. Sembra un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio. Cos'altro c'è da fare qui? Beh, ci sono molti ristoranti e caffetterie da provare. E il mercato locale è una tappa obbligata per chi ama fare acquisti. Sembra tutto fantastico. Non vedo l'ora di esplorare questo nuovo posto e creare dei ricordi felici. Anche io. È sempre emozionante scoprire nuovi luoghi ed esperienze. Grazie. 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 Grazie.